buongiorno siamo qua con mio fratello oggi lui si chiamava dolfit l'ha lasciatelo stare un coglione di merda oggi siamo su among us se si muovono ad entrare se no usciamo e no e mettiamo sì che ne frega ma si dai usciamo mettiamone un altro fine game te lo dico io il codice imposter vai isp fbf fbf best friend best friend ci sono bella lì allora siamo lentissimi e no e no bella siamo in 5 siamo in 7 siamo più veloce no allora questo si chiama come me impostor voglio vedere chi è ita ita io ho già scritto due impostori sì di sicuro ci sarà no non sono un impostore ma ti sembra che sono io impostore dai su svegliati ma secondo te sarà impostor 1 sono sicuro allontanati da me no non mi allorrenterei mai chi è che mi ha chiuso dentro no chi è che mi ha chiuso dentro dov'è che è morto lì in bianco non lo so il bianco è morto da qualche parte musolini sconmisa cica secondo me ita io bella 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 io schippo io gli ho scritto bella bella musolini bella 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 schippato schippato hanno votato in 3 quello che l'ha chiamato poverino magari anche lui no io ho paura dante secondo me quello che avevi vicino era un impostore anche secondo me era un impostore cosa fai play again si play again se si muove sponzo ma eri tu il no io ero verde nero ma non lo do zombie cosa zombie tsunami ma che cosa perché non mi da non me lo vuole fare non mi vuole fare entrare il dragon tu sei dentro no no è zitta allora che sei vedi strozza elinor vado su elinor no n o f muoviti no f h f f h f f h f così si quanti sono si dentro siamo in 9-10 giusto giusto per tu fand ita ita in teoria per tu fand è un italiano perché è un youtuber famoso no secondo me sei di me ancora secondo te no secondo me sei tu si sarò di sicuro io di sicuro guarda su mi segui ma secondo te vedi stronzo stronzo a caso l'hanno chiamato who oh ma io non gioco più con te who why who 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 mamma io schifo guarda mo abbandono no dai aspetta no no aspetta dai guardami almeno giocare no dai dantes vabbè mi basta un me l'hanno buttato fuori questo qua poverino non c'entrava niente ah mi ha vinto io t'ho detto io con te non ci gioco più no dai no no dai niente dai dimmi il codice dai dai dantes dai dimmelo vai veloce dimmi dai te lo faccio vedere se sono impostore te lo dico e non ti ammazzo più te lo faccio vedere direi non ti ammazzo più se mi dici il codice vai dimmi il codice veloce k eh k no hk hk m w qq no siete già in pieno siete già in pieno esce ita esci musolini esci da lì no aspetta ridimelo hk k m m w qq no siete già in pieno no quanto su dieci non mi dice che siete pieni provo a uscire esci che ti sì mamma vai vai quindi è hk m w qq cos'è che hai oh sono dentro ita ita voi oh star sì io ita musolini musol gang si gang muso grandi vai muso io sono hitler adolf hitler e io sono il fratello fratello brutto di musolini a caso partite partite ma chi è il rosa start vai muso sono io il rosa oh mi hanno messo rosa rosso bello io voglio essere il chi è il rosso oh datemi il rosso subito non voglio essere il rosa datemi l'arancione piuttosto il verde oh non mi fanno cambiare colore sti pezzini il verde ce l'ho io oh no l'altro mettiamoci la zucca questo io so bello sì mamma vabbè allora ragazzi seguite tutti i studi e start startate pezzi di cacca muovetevi start bravi oh stanno startando eh porca di quella mo ti ammazzo lantes dove sei lantes vieni qua sei stupido sei stupido mo ti buttano fuori ha ha ti hanno buttato fuori ti hanno buttato fuori si invece ma sei scemo almeno quando mi ammazzi scappa sì io ho ucciso a caso stagliato io ho fatto svegli ok allora